Saluto e buon venito a tutti i miei dimanici. Oggi ho preso l'intero dell'esame che non ho avuto in l'originale verità, almeno la mia zio. E il caso venito della lega di questo libro, Terra di Nessuno, che è l'Italia titolo, non è l'Italia, che è l'Italia originale, Morax Ne. Oh, questa scomprenibile parte, prima e sperando, grande della fine, la neutrala Morax Ne. C'è l'Italia, che è l'iniziatore dell'idea amicheio, dell'idea per l'esperantista microstato. C'è lì presente in l'Universale congresso in Dresdeno, nel 1908, la proiecto, e sperando in sei monatoi, la neutrala territoria. C'è lì presente in l'idea, e per subtenere tion ideon, nel comenzo del libretto panfletto, c'è un libero per l'esperantista in Esperanto, e se salìa panfletto in la Francia, per la generale pubblico, ne dirò, è l'etero di Samenhof. Ma lunga, se ti interessa. Varsovio, dec hoc, Dezembro 1900, sep. Cara Signoro, Via in du articoleto in mi legis cum granda interesso. La ideo treplacias al mi. Se gi povus esti plenumita, ci estus, lao mia opinio, tregrava aciro por la interna ideo dell'esperantismo. Samenhof Do, vidu, tio estus, lao mi interessa, affero, car Samenhof subtenis tion ideon pri neutrala stato, cae facte tio estis suffice clara en la nua versio de sia filosofio nome Hillelismo. Sed, en 2007, li jam declaris publice en interviu, anglalingua interviu in The Jewish Chronicle, che li resignis per tio. Do, a parte, pri la aperigo de nova popolo cun nova stato. Sed, giuste, pos, quelcai monatoi, aperas tiu subtenu. Cai, ancao al mi estas ege interesse rimarchi, che facte la esperantistoi ne tro subtenis tion, car la ferro estis tro politica. Tro politica esargita, tio estas tre interesse raccontata, raccontita, facte, ancao, se vi voles, en la libro che io mi menti, santave. Mi diras raccontata, car mi estas ancora leganta a gin. Estus, ancao interesse a aperigi gin en Esperanto, mi pensas. Iam estas zinco, mal longa libreto primores neto, en Esperanto, el originala nederlanda linguo. Sed, la ferro estas. Laumi. Quiom da partoi el la Zamenhofa pensaro restis en Esperantoio. Car iam, en la suffice frua epoco, la dua generazio, la Svis-Franza generazio, nidiru, acte, la jaro, la finoi, la finoi, la, la finoi, della, 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 della naudeca, perdono, la fino della Deknaua, iarcento, logis, la forpasso de Zamenhofa in 1900, d'excep, tios eses la, kion mi nomas la, swiss, franza, generazio, de esperantistoi, shainas al mi, che iam tiam, multai ideoi, de Zamenhofa, verene congruis, con la ideo de esperantismo, laula esperantistoi. to, restas al mi la demando. Zamenhofa diras, lau, mia opinio, mi estas privata persona, mi nur donas mian opinion, kiu ne estas leggotona. Bone. Sed, ciù la interne de overe, estas comprenata ancora un un, laula desiroi di Zamenhofa? Ien, la essenzo de mia, cun medito, odiawa in dimancio. Dancom, provi atento. Mi nun, shangios la, la manieron, publicigi la, video in, mi usos YouTubeon, char mi pensas, che tio povas, anca odis, vastigi la, medito serion, plue, cae pli, holla nun, cae ien. Do, mi revidos din morgau, felician dimancio, ancorau, cae, jis morgau, antauen, sen fine, ne forgesso. a mi si Grazie a tutti.